Peugeot a Padova 2018 festeggia i 50 anni di un'icona. Il secondo modello più venduto della Casa del Leone è la 504, un'auto che è stata presentata il 12 settembre 1968 al Salone di Parigi. È figlia dello stile di Aldo Grovarone, in forza alla pinifarina all'epoca, ma anche con il grande supporto da parte del centro stile Peugeot, che ha definito la parte anteriore dell'auto, davvero molto personale con questi fanali anteriori a trapezio. È un'auto che è stata la prima ad essere eletta Auto dell'Anno, nel 1969, la prima di una lunga serie per la Casa del Leone, ma è un'auto che ha avuto un grandissimo successo commerciale, perché ne sono stati venduti quasi 3.700.000 centauri in tutto il mondo. È stata prodotta in Europa, ma è stata prodotta anche al di fuori dai nostri confini, ed è un'auto che ha avuto un grande passato storico anche a livello di competizioni, perché ha vinto il Safari Rally con Paul Henderson, ma anche il 18esimo Rally del Marocco, quindi è un'auto davvero molto robusta, molto competitiva, e che è stata in grado anche di mettersi alle spalle dei mostri sacri, come le Lancia Stratos dell'epoca, che erano molto combattive. È un'auto davvero molto personale, molto distintiva, ed era un'icona della berlina alto di gamma della Casa dell'Ondio dell'epoca.